ciao ragazzi sono Gigi Mastrangelo oggi vi farò vedere cosa c'è nella borsa di un pallavolista e di cosa ce ne sono tanti allora iniziamo intanto da questo prodotto qui un Energy Aminos che io uso solitamente prima di ogni allenamento duro perché gli allenamenti dei pallavolisti sono duri molto molto duri dopodiché sì vabbè ho uno shake insomma dove mi serve per mescolare un po' il tutto ho le mie scarpe personalizzate come vedete Mastro con numero uno queste servono sono molto importanti altrimenti si farebbe tutto scalzi ho la mia maglietta questo mio porta fortuna che ho sempre dietro con me Mastrangelo con numero uno ecco questa l'ho ingossata ben 367 volte questa ce l'ho sempre con me poi a metà allenamento adoro mangiare ogni tanto questa barretta qui questa protein bar perché i nostri elementi sono molto duri e ho bisogno comunque di integrare un pochino si avvicina alla fine dell'allenamento e visti i nostri come dicevo prima allenamenti molto duri in cui sudiamo tanto e c'è bisogno di recuperare uso anche questo prodotto che è un Recovery Aminos alla al melograno il melograno mi piace tantissimo quindi l'ho scelto a questo gusto qui ecco il momento più bello della dell'allenamento della parte finale è la doccia ho i miei prodotti e l'asciugamano questo è quanto c'è di roba ce ne sono tante come avete visto nella borsa di un pallavolista ciao